Siamo qui con Pomponi del Real San Paolo che oggi esce vincitore per una rete a zero col di venti al primo tempo insomma avete diciamo abbastanza dominato poi avete trovato il tallone da Ghibe con questi lanci lunghi si è infilato venti insomma così è stata la partita è partita molto difficile sulla carta non era sembrava così semplice però abbiamo visto che gli avversari sono stati di tutto rispetto a partire abbiamo giocato 11 compatti abbiamo si trovato 20 che ci ha fatto vincere la partita però io penso che la vittoria è di tutta la squadra e c'è niente da dire anche del portiere che stasera il portiere il portiere è un fenomeno io dico ci abbiamo suo portiere ce lo teniamo molto stretto perché fa tanta differenza allora prima partita primi punti avanti di tutto insomma sì speriamo di andare il più lungo possibile e noi ce la metteremo tutta e onoreremo la maglia ci vediamo alla prossima ciao arrivederci